Buongiorno e bentornati al Cittadino Digitale. Cari amici, vi ricordate qualche decennio fa quando ognuno di noi era di fronte a un monitor a fosfori verdi o arancioni collegati al proprio computer Commodore alla console Nintendo in attesa di giocare al proprio videogame preferito? Quanta nostalgia per quegli schermi che si illuminavano come se non ci fosse più il segnale in attese che duravano decine di minuti per il caricamento di un solo livello del gioco, ricco di grafiche alquanto spartane, assolutamente lontane e non paragonabili alle grafiche dei videogiochi moderni. Quanti bei momenti insieme ai nostri amici! Qualche giovane potrebbe dirci che oramai siamo troppo vecchi, o meglio vintage, eppure quell'antico modo di videogiocare oggi più che mai sta tornando in voga, ovviamente tra i più grandi. Questa nuova filosofia prende il nome di Retro Gang, un neologismo inglese che indica la passione per i videogiochi del passato sviluppati anche 35-40 anni fa. Tanto per fare un esempio possiamo ricordare i famosissimi Pong, Pac-Man o Space Invaders, che sul finire degli anni 70 si potevano giocare infilando una moneta in uno dei grossi cabinati presenti nella maggior parte dei bar. Oppure i successivi Super Mario, Zelda, fruibili dalle prime console di casa fino ad arrivare a giochi quali The Last Ninja, Tarniken o Street Fighter per Commodore 64. Giochi che hanno segnato la gioventù di ognuno di noi. Tutti sono concordi nell'affermare che si tratta di veri capolavori, giochi storici capaci ancora di attrarre la nostra attenzione. Vere e proprie meraviglie della programmazione. Ma com'è possibile giocare ancora con essi? L'idea è semplice, utilizzare i cosiddetti emulatori, software sviluppati con il preciso intento di imitare il funzionamento di quei vecchi sistemi. Il più famoso tra tutti è il MAME, che permette l'emulazione di varie piattaforme. Ma ovviamente solo questo non basta, in quanto adesso devono essere aggiunte le ROM, piccoli file che contengono i dati delle cartucce o delle schede originali in cui erano presenti i giochi. Ovviamente per l'utilizzo delle ROM occorre disporre di una licenza o del gioco originale, a meno che la ROM stessa non sia distribuita gratuitamente, come avviene per quelle presenti sul sito web del MAME. Negli ultimi anni il retro gaming è cresciuto a dismisura, tant'è che molti produttori hanno riproposto vecchi sistemi rivisitati per poche decine di euro, in cui sono preinstallati i principali giochi che hanno reso famosi esattamente tali piattaforme. In questo stupendo mercato della nostalgia vediamo insieme alcuni dei sistemi più conosciuti di retro gaming. Il Nintendo Classic Mini, una versione in miniatura del NES, acronimo di Nintendo Entertainment System, rivoluzionaria console uscita in Europa nel 1986. La nuova versione dispone di 30 giochi preinstallati, tra cui i classici più amati come Super Mario e The Legend of Zelda. Da poco sul mercato anche la versione mini del Super NES. Il C64 Mini, una versione moderna che omaggia una delle macchine da gioco più amate di tutti i tempi, il famoso Commodore 64, uscito, se vi ricordate, nel 1982. All'interno di questo sistema sono già inclusi 64 titoli retro. Ed infine la PlayStation Classic, che riproduce la prima console della Sony, che nel 1994 arrivò come un terremoto sul mercato, avvicinando ai videogiochi una grandissima quantità di persone. Questo dispositivo include 20 tra i suoi migliori giochi. Per approfondire le nostre conoscenze, un ottimo punto di partenza è il sito www.retrogaming-italia.it, un blog creato con l'intento di proporre notizie su questo affascinante mondo, mai dimenticato, delle console e computer degli anni 80 e 90, come ad esempio Atari, Commodore, Sega e Nintendo, i quali furono promotori dello sviluppo dell'attuale settore dei videogiochi. In un mondo come quello di oggi, super tecnologico, arricchito di effetti speciali da ogni dove, il retro gaming sembra essere il richiamo di un antico passato, che ci fa tornare per qualche minuto bambini. Quei bambini che, con le ginocchia sbucciate, dopo una partita di calcio, rimanevano affascinati per ore a guardare in tv una pallina che rimbalzava tra due rettangoli. Vi ringrazio e auguro a tutti una buonissima giornata.